Bene, quella sera io speravo che non ritirassero la mozione sulla moratoria del gioco, ma speravo che il nostro Presidente del Consiglio, a reti unificate, potesse una volta per tutte spiegare agli italiani che se stavamo combattendo per 750 milioni per la prima rata dell'Ibu con quella moratoria i politici dovevano spiegare ai cittadini che avremmo dovuto pagare 9 Ibu per non vedere sconfitto il gioco d'azzardo ma per ritornare a prima del 2002 dove uno Stato probabilmente moralista preferisce non mettere, non sistemare le cose come hanno fatto Paesi più avanti di noi, sia culturalmente che economicamente, come Inghilterra, come Germania come altri. Perdonatevi, forse ho preso qui 5 minuti in più, grazie per l'attenzione.